Buongiorno a tutti gli amici del Terracina Blog, il 4 settembre, il 72esimo anniversario del primo bombardamento di Terracina, sta per essere deposta una corona in memoria dei caduti. Purtroppo non vi è, a parte le autorità, i vinciti urbani, non vi è grande partecipazione della popolazione, probabilmente perché non è stato abbastanza pubblicizzato. Ecco, vedete che sta per essere deposta la corona. Purtroppo qua c'è gente che non ha rispetto, per cortesia. Ma questo c'è proprio gente che non c'è nessuna, anche perché Terracina sta ridotta a casino. non c'hanno rispetto per niente, per nessuno, neanche per i morti. Strilano, cioè sanno che qua c'è in corso una cerimonia importante. stiamo girando questo video con un tablet. Speriamo che riesca bene. spostiamo un attimo, per avere una visione più globale. come detto, l'evento accadde nel 4 settembre del 43, vari bombardieri americani passarono alle ore 16 su Terracina, i nostri concittadini dell'epoca pensavano che erano di passaggio, invece, quando cominciarono a sentire i fischi delle bonte, capirono che erano destinati a loro. ecco, i due vigili umani stanno per deporre la corona. c'è il commissario e dietro tutte le autorità. ecco, a finito, a finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' finita qua. Saluto a tutti.